Prefazione Scientology è la scienza del conoscere le scienze Tenta ad includere le scienze esatte e le scienze umanistiche a titolo di chiarificazione della conoscenza stessa Si studia per conoscere una scienza Tali studio è vano se non si conosce la scienza dello studio Si vive e si apprende cose sulla vita ma la vita risulta incomprensibile poco importa quanto si vive se non si conosce la scienza della vita stessa Si studiano le scienze umanistiche se non si sa come studiare le scienze umanistiche spesso non si ha successo Il fisico e l'esperto di bombe a fissione atomica conoscono la fisica ma non le scienze umanistiche Essi non ne concepiscono in esso e pertanto la fisica stessa non ha successo In tutte queste cose la biologia, la fisica, la psicologia e la vita stessa le abilità pratiche di Scientology possono portare ordine e semplificazione Si vive meglio con Scientology poiché la vita, compresa e controllata diventa vivibile Una civiltà potrebbe andare meglio con Scientology poiché non sarebbe deturpata da cose sconosciute e nullificata dal caos La sola ricchezza che esiste è la comprensione Questo è tutto ciò che Scientology ha da dare Buon salve e benvenuti Nei prossimi video porterò la lettura capitolo dopo capitolo di questo libro Vi auguro una buona visione per i prossimi episodi che usciranno Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti